ragazzi vi volevo informare che stasera alle 22.30 sono in live qui su pub o come si chiama player unknown a battleground quindi ci vediamo stasera mi raccomando niente chi volesse passare dalla chat per fare un saluto per semplicemente farmi compagnia io sono in live di nuovo alle 22.30 ci vediamo stasera e vi do un bacio ciao